Luca Palatresi, Luca Cacioli, Giulia Madiai, Beatrice Bruni, Donatella Izzo, Enrico Fico, Luca De Pasquale, Pierluigi Fresia, Valentina Zamboni, Paride Scuffi, Beatrice Speranza, Antonio Mariotti, Frances Fon Fleming. Con il patrocinio, tra virgolette, di Silvia Modio, grandissima fotografa, sono gli artisti nonché autori di una mostra che definirei coraggiosa, curata da Tiziana Tomei e Francesco Mutti, in collaborazione con Luciferi, un laboratorio fotografico sperimentale che è uno degli orgogli della nostra città. Una mostra dedicata al bianco, una mostra fotografica appunto presso la galleria 33 e visitabile fino al 20 di giugno. Dicevo il bianco e ispirandomi a un capolavoro di Silvia Modio direi tutti i colori del bianco. Una mostra che è nata da un bando, Call for Photography, in cui si richiedevano misure ben precise, quadrato 33x33 e una fotografia in bianco. Incredibile a dirsi quale varietà di espressioni, di personalità, nonostante il rigore imposto dalle misure, è emersa appunto dalla mostra. Una mostra che abbaglia appena il visitatore entra in galleria, in quanto tutti i temi della fotografia contemporanea sono documentate in una sorta di percorso che ci accompagna attraverso le sfumature di bianco.